Un risultato storico che pone fine ad una storia che si trascinava da oltre un decennio e che pone le basi per un vero sviluppo del Gran Sasso. Ieri l'Aggiunta ha approvato l'addendum all'accordo tra Comune e Asbuc di Assergi relativo al canone di occupazione di una serie di terreni in montagna, sui quali ci sono però delle attività ricettive, funibie e impianti di risalita. Il Comune avrebbe dovuto corrispondere all'Asbuc una somma che non è stata mai versata. Il Sindaco Pierluigi Biondi parla di lacuna finalmente colmata. In base all'addendum il Comune verserà circa 300.000 euro per 2023-2024, mentre è stata fissata in 150.000 euro la quota annua che sarà corrisposta dal 2025 all'Asbuc. L'accordo prevede pure un investimento da un milione di euro in opere pubbliche che saranno condivise con l'amministrazione separata. Una storia lunghissima che risale al 1985 con la realizzazione della funibia quando il consigliere con delega alla montagna Luigi Faccia era presidente degli usicevici. Diciamo che è un documento di portata storica che mette da parte tutte le incomprensioni, tutte le controversie e trova un punto comune d'intesa rinunciando entrambe le parti a molte cose e quindi un punto, come dicevo, un punto di comune d'intesa per trovare l'unica via per lo sviluppo del territorio, del territorio del torrente raiale, tutti i paesi del torrente raiale, e sia per lo sviluppo del Gran Sasso. E' un passo molto importante e un passo che elimina molti ostacoli. E' una vicenda che si trascinava da tantissimi anni, anch'io purtroppo sono stato partecipe di questa vicenda. Nel lontano 1985 ero un piccolissimo presidente dell'ASBUC che firma un accordo del comune dell'Aquila che poi non ha mai rispettato. Nel 2010 c'è stato un altro tentativo, anche lì poi accordo firmato, ma non poi dato seguito agli accordi presi con quel documento, e adesso, e adesso, si è arrivata questa firma di un documento storico. Ripeto, storico, sia per Assergi, per le frazioni del Raiale e sia per la comunità dell'Aquila.